Buongiorno a tutti, siamo qui per una nuova chemioterapia che ho iniziato giusto oggi oltretutto. Ho festeggiato il mio compleanno, ho festeggiato il mio compleanno praticamente all'ospedale. Infatti avevo chiesto gentilmente, scherzando ovviamente, alle infermiere di portarmi con una mano la chemio o con l'altra una torta. Mi hanno detto no, deve essere tuo a portarci qualcosa, va bene. Allora ho portato i basticini e via. Quindi siamo tutti contenti. Questa è la nuova boccetta, bene o male sono sempre uguali perché fondamentalmente la chemio sarà sempre quella, come vi avevo già detto, i fosfamide con mesna. Va bene, nel senso finché funzionava tutto bene. Adesso il giovedì avrò i risultati dell'attacca, l'ultima attacca che ho fatto, che ho fatto oltretutto il giovedì scorso, una settimana, 5 giorni di aborti, utilizzando sabato e domenica. Sono 7 giorni totali, speriamo bene, incrociamo le dita, con un po' di fortuna dovrei avere già gli esiti oggi o domani. Però non ci conto più di tanto perché sono quelli digitali che ti arrivano prima. Giovedì sicuro mi danno comunque la copia, cioè dopo domani mi danno comunque la copia cartacea. Che va bene anche solo quella, ok? Nessun problema. Spero che questa nuova chemioterapia che ho iniziato non mi provochi problemi perché la seconda mi ha provocato dolori non da poco, mi ha fatto diventare praticamente l'intestino duro come cemento armato. E avete presente quando avete i crampi, i crampi addominali? Ecco, immaginate di averli per tutto il pomeriggio o tutta la notte, dipende quando cominciano. Quindi per tante ore consecutive, cioè non è che adesso ti vengono, poi smettono e tornano tra un'ora, no, continuano. Solo forse pochi secondi tra un crampo e l'altro, diciamo così. Però comunque molto doloroso, molto fastidioso, mi ha provocato anche vomito, letteralmente non nausea, proprio vomitato. E mancanza di appetito, perdita di peso, insomma, non è stata proprio una buona chemioterapia, diciamo così. Però l'importante è che funziona. Se dobbiamo sopportare, sopportiamo. Mi ha provocato anche degli ammessamenti, come proprio cilgina sulla torta, degli emocromi. Quindi ho rischiato seriamente questa chemio di non poterla fare, perché ieri, loro vogliono gli esami degli emocromi molto freschi, quindi il massimo del giorno prima. Ieri sono andato a farli e c'è stato un tracollo fondamentalmente che non capitava da tanto tempo, globuli bianchi bassissimi, in particolare i neutrofili, o neutrofili, adesso non so come si leggono in modo corretto. Abbiamo stabilito, hanno stabilito, dove sono adesso, perché mi hanno spostato di ospedale, anche se comunque rimango ricoverato ufficialmente all'Istituto Nazionale dei Tumori. Mi hanno spostato più vicino a casa, grazie al cielo, e hanno stabilito insieme che i neutrofili massimo, anzi minimo, possono essere 1.0. Normalmente sarebbe 1.5, 1.3, loro hanno detto 1.0, perché comunque è una situazione un po' particolare. Ieri erano a 0.99, senza contare altre voci che sono andate male, tipo abbassamento del sangue, abbassamento dell'emoglobina, è stato abbastanza un disastro che non capitava da un po' di tempo, però ci può stare, è una chemio forte, va bene, ci può stare, non ci sono problemi. E quindi comunque, come vi dicevo, rischiavo di non farla oggi. Però, grazie al cielo, hanno parlato fra di loro, hanno parlato con la primaria dell'ospedale in cui sono adesso, e hanno deciso di non essere troppo fiscali, perché tanto 0.99, 1, siamo lì, e di farmela lo stesso. Però mi hanno già detto, tu comincia a fare questa boccetta, che ti dura una settimana, 24 ore su 24, eccetera, eccetera. La seconda, vedremo se potrai farla comunque o no. Capite? È una rottura di scatole immensa per me. Già sono contento così, chiariamoci, perché un conto e non farlo per 2, 3, 4 settimane consecutive, boh, va bene, è peggio. Però farne una sola comunque vuol dire togliere un po' di potenza alla chemio, vuol dire non darla vinta al tumore, perché non è che per una chemio in meno si risveglia, ricomincia a crescere, cose del genere, però non lo colpisci bene come vorresti. Ma queste sono anche cose scontate, per l'amor di Dio. Però intanto, cominciamo a farci questa chemio. Lunedì prossimo farò ancora gli esami del sangue, martedì dovrò tornare là per cambiare la boccetta e decideranno, in base appunto a quegli esami, se potrò farlo o meno. Poi, domani devo andare a fare l'IMSS, perché dovrò fare il rinnovo per la mia invalidità lavorativa. Ogni anno lo devo rifare, ma va bene, ci può stare, perché non si sa mai che uno può guarire nel mentre, ci sta, per carità. E speriamo, per l'appunto, come dicevo prima, che non mi dia gli stessi problemi questa chemio. Perché la prima volta, la prima chemio che avevo fatto di questa, non mi aveva dato problemi. La seconda mi ha fatto malissimo, speriamo che questo giro sia come la prima. Speriamo, ragazzi, che devo fare? Non posso fare altrimenti. Comunque, come dicevo, l'importante è che funzioni. Punto. Non ne voglio più sapere. L'importante è che funzioni e che abbia effetti. Quando mi daranno gli esiti dell'attacca, vi aggiorno. Speriamo il prima possibile, magari adesso sto registrando mezz'ora, ma arriva l'esito digitale. O domani, come dicevo, mal che vada, ripeto, giovedì alle due, due e mezza, vado a ritirare la coppia cartacea. E poi andrò a Milano a portare il tutto. La coppia cartacea, gli avvio via fax, però il cd, glielo porto direttamente io, almeno posso parlare con il mio oncologo, con il mio oncologo che mi è ancora là. Dai, vediamo, incrociamo le dita. Sono un po' in ansia. Sono positivo, perché penso di stare un po' meglio, sono positivo. Però, finché non me lo dicono loro ufficialmente, nello suo bianco, sapete che comunque l'ansia rimane. Cioè, chi le passa queste cose lo sa. Oltretutto, una cosa strana, ecco, qui chiudo il video, è che oggi, mentre praticamente mi visitavano, facendomi sdraiare, tastandomi l'addome, eccetera, eccetera, ho sentito male, ma meno l'altra volta, quindi già questa è una cosa positiva. Però, la cosa strana è che il tumore si è spostato. Non è che... È difficile da spiegare, perché non sono tutti uguali, quindi molto spesso magari è una cosa che non può capitare, non lo so, nel mio caso sì. Non è che si sta espandendo verso sinistra, perché io praticamente ce l'ho qui, come vi facevo dell'altra volta, qui c'è la massa principale, a destra praticamente dell'ombelico per me è a destra, e si sta spostando praticamente più al centro. Infatti, se tocchi a destra, si sente qualcosa, mai meno. Questo l'aveva notato anche la mia dottoressa qua dell'ospedale in cui sono in cura. E si sta spostando più verso il centro, si sta concentrando di più lì. Non so perché, non so per come, non so se è una cosa normale, non lo so, non ne ho idea. Però è così, vedremo. Oh ragazzi, grazie di aver visto questo video, buona continuazione, buona salute a tutti quanti, e vi aggiornerò appena possibile, appena anch'io ne saprò di più. Buona giornata e buon tutto ragazzi, ciao!